Cose che ti rovinano l'infanzia ma che allo stesso tempo ti stanno operando un sorriso, quindi lascia un like e inizia a seguirmi, grazie. Tu probabilmente non lo sapevi, non lo sapevo neanche io, ma la Warner Bros. era stata denunciata dalla Russia perché l'elfo domestico di Harry Potter, che conosciamo tutti, il mio amato Dobby, assomigliava a Putin. Io questa assomiglianza non è che ce la vedo tanto, poi scrivetemi voi nei commenti. Vi siete mai chiesti perché non è mai stata pubblicata la fine di Doraemon? Io ora ci sto pensando sinceramente, semplicemente perché il suo creatore è morto. Bart Simpson, quello lì che dice ciucciami il calzino, è mancino, lo possiamo vedere nella sigla, quando scrive alla lavagna, scrive con la sinistra, lui è mancino. Sapete qual è la logica dei puffi? Semplicemente è un lungo sogno che ha fatto Gargamella. Questa cosa mi ha scioccato, Bart Simpson è doppiato da una donna, com'è possibile? Probabilmente non lo sapevi, sai che Topolino è nato tipo nel 1930, ma i doppiatori di Topolino e Millie nel 1930 si sono sposati. Mi raccomando, lascia un like se ti ha rovinato l'infanzia ma che ti ha fatto scoprire anche cose nuove, quindi seguimi pure perché, cioè, a me strappi un sorriso, a te te l'ho strappato, quindi lascia un like e seguimi.